E' stata sottoscritta nei giorni scorsi nella sede IAT di Pesaro, l'ufficio informazione e accoglienza turistica, un'intesa tra Regione Marche e l'Unione Nazionale Proloco Comitato Provinciale di Pesaro Urbino. Si tratta di un accordo di durata biennale che indica obiettivi strategici e linee guida per lo sviluppo di progetti turistici, oltre che intensificare una collaborazione reciproca. Accoglienza e promozione sono due attività fondamentali e inscindibili, ha esordito il Presidente della Regione Luca Ceriscioli. Se i servizi sono efficienti e c'è una buona informazione, si ha un'ottima promozione del territorio. Questo è il primo protocollo che sottoscriviamo con il Comitato Provinciale Proloco sulla base di una delibera che la Giunta Regionale ha preso un paio di settimane fa. Ovviamente è un'opportunità che noi vogliamo dare in tutto il territorio regionale, nasce per impulso proprio alla Proloco di questa provincia e quindi era giusto partire con questa sottoscrizione. Poi speriamo che anche negli altri territori venga presa questa come un'opportunità importante di collaborazione. Il respiro alla presenza del Proloco è un valore estremamente importante perché sono l'anima di cento iniziative. Le Proloco, aggiunto invece il Vice Presidente Minardi, sono un patrimonio straordinario. In Italia contano 600.000 soci e nelle Marche ben 18.000. È un esercito di persone, ha precisato, che durante tutto l'anno lavora per creare grandi opportunità per il turismo. Ovviamente questo protocollo che cosa fa? Riconosce alle Proloco un ruolo importante di sinergia, di collaborazione, di stare insieme, di lavorare insieme, di promuovere insieme, di dare una mano alla Regione alle Proloco ma viceversa anche alle Proloco di essere vicine alla Regione in tanti eventi, in tante occasioni, compreso il supporto anche a volte logistico sugli eventi e anche sulle iniziative di carattere promozionale. Orgoglioso dell'accordo anche il Presidente dell'UMPLI provinciale Damiano Bartocetti. Sono veramente soddisfatto perché oggi è una giornata veramente importante ma non tanto per le Proloco ma per i turisti che verranno nel nostro territorio, per tutti i cittadini che avranno un'informazione immediata, avranno delle informazioni più precise e sempre più dirette. E se oggi siamo qui lo dobbiamo ai nostri volontari che hanno dimostrato, ai nostri Presidenti dell'Eproloco che hanno dimostrato veramente un grande impegno, una grande professionalità nell'organizzare eventi sempre più di qualità.